Però non è, tra poco ci sono le elezioni a Parma, non tra tantissimo, quindi non è all'improvviso, ci sono dei rapporti difficili che sono andati avanti per anni, quindi se non sbaglio parliamo del 2011. Quindi ci sono stati dei rapporti sempre un po' complicati, anche su dei contenuti, però questa è una cosa che prima come garanti gestivano Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio e poi adesso Beppe.